Hola amigos, io sono Satirion, questo è il mio canale, oggi siamo qui con le spagnoles reggaeton Oggi siamo su Minecraft ragazzi, guardate quanto è bella la mia piccola principessa, vi saluta anche, ciao Cazzarola facciamo? Voglio iniziare questa serie di Minecraft, però non voglio iniziare subito con il tipico survival do palma Madonna, ma questo comincia a spiegarci come si gioca, noi lo sappiamo già E appunto per questo, appunto per questo, partiamo con un bel PvP Io so che con questo si corre veloce Mamma mia ragazzi, lo so che vi starete dicendo che la serie di The Flash è finita Però c'è un The Flash, ancora più veloce di The Flash Eccoci qua amigos, allora io mi sono allenato un pochino in One in the Chamber E ci andiamo subito C'è il kit normale base, se lo stronzetto me lo dà Ci buttiamo qui dentro e spariamo ragazzi E andiamo nell'arena Mamma mia, quanto... Oh, 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 non facciamo subito un fail Grandissimo ragazzi, come sono... Sono... Come sono imbranato Dai, dai, tra i due litiganti, il terzo gode Yeah Brutto pezzo di merda Andiamo, andiamo, non c'è bisogno che prendete ogni volta il kit Tanto voi già... Lo sapete Mamma mia ragazzi, mi sento proprio... Il ritorno di cod One shot No, basta L'emozione gioca brutti scherzi Alcune volte Tra i due litiganti Tra i due litiganti Il terzo muore Eh, lo sapevo Arrivo Mamma mia ragazzi, come sono entusiasta di giocare qui E poi, quando si dice entusiasta Però io non sono una femmina Però sono un bichino che non riesce a centrare nessuno con la freccia Scherzo, prima ho fatto i grandi... Oh, oh Le grandi lag Mamma mia, non ci so capire niente Perché? Sei io Animale Corri, 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 corri Intanto fuori c'è il mega ultra temporale ragazzi Spero vivamente Che non esploda il computer Ma esploda il tuo Brutto prezzo di preso Ho iniziato Ho dice Azzù Madonna mia ragazzi Hanno proprio una voglia di volare queste frecce Mamma mia Corri ragazzo laggiù Tarararara Boom Boom Oh, c'è qualcuno che mi sta leggermente inchiappettando con le loro frecce Tu che stai guardando? Uh, 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 uh Oh Au, aiuta Corri ragazzo Corri e non ti fermare È la tua unica Scherzo Era la tua unica via di fuga Adesso è la tua unica via di morte Arrivo Datemi una freccia Perché non muoiono? Ma quanti colpi? Brutti VIP Maledetti VIP Raga bisogna fixarle questi archi però eh Eh Non so se sono le frecce o le ha Uh, questo non è morto con una freccia Eppure c'è scritto Un colpo di freccia? Muori Però Per i VIP È diverso Aspetta No così No così Uh 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 Non c'è più frecce Però c'è lo stesso Una spada che può uccidermi Però Ti uccido prima io Prima ho scritto qui in chat regione Ragazzi domani arriva la mia prima Il mio primo video su Minecraft La prima risposta Non ce ne frega niente A te sì però Fega molto eh Brutto strazza Uh Boom Brutta sabbia Morirai Che cosa sta succedendo? Dai però Quello stava con l'arco Poteva uccidere lui Domani Sì domani Video con il mio Amigos Prendo te perché mi stavi antipatico Però dai Una bella doppietta Così alla random Oh Dammi la freccia Sto distruggendo la barra spaziatrice Però voi non me ne state accogendo Perché non si sente Corri ragazzo Corri piccolo mino di Minecraft Andiamo ad accoppare questa da dietro Addio Secondo me c'è qualcuno dietro Boom Ma Ui raga Sono un pro player Io ci ho giocato sul telefono Alla pocket edition di Minecraft Quindi Non dite Ah Satirio tu ci hai già giocato prima Perché si vede che sei bravo No Sei un puritano invece Di la verità Aia Nelle palle Ti vengono le spalle Così muoio prima Slime Dovrebbe essere quello giusto Il mini slime Quando è stato accoppato Uno che dovevo prendere Ho preso la sabbia Infatti Grandissimo Boom Dai Abbiamo sparato insieme Ok Direi di fare gli ultimi morti In lag Finiamo in lag Tu 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 Pow Pow C'ho l'altra C'ho Allora Fatemi fare bella figura Che palle Tu 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 Dove sei? Dove sei? Non ti vedo Vedi qua Livello successivo Grandissimi ragazzi Grandissimi Ok così si cliccano i tasti Quelli che non funzionano Grazie Quello secondo me c'ha un'altra freccia What does that kill you? Perché mi sta uccidendo lui? Perché mi ha ucciso? Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Mi sto sentendo Mi sto sentendo morire Ok l'ultima Almeno un paio di kill dobbiamo farla Questo perché sta salendo? Salve Laggando però L'abbiamo accoppito Vai Direi che per oggi La prima puntata di minecraft Può finire qui Con i one in the chamber 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 Se il video vi è piaciuto Vi invito a iscrivervi al canale A mettere un bel like al video Non vi dico quanti dobbiamo arrivarne Perché se il video vi piace Mettete il like ragazzi Quindi Se il video vi piace Continuiamo su minecraft Iscrivervi al canale Mettere un bel commento qui sotto Dire cosa volete vedere Nel prossimo PvP One in the chamber Contare One in the chamber Survival E come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento Ragazzi sono contento che ho scaricato minecraft Sono proprio un coglione E come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento